Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica trailer reaction. Con tanta hype voglio fare questa trailer reaction insieme a voi perché questo è un film italiano di un fumetto famosissimo italiano che ha avuto successo anche oltre Italia. Ci hanno fatto un cartone italo-francese che per noi italiani avere un cartone su un nostro personaggio dei fumetti è rarissimo. Ci avevano già fatto un film in tempi non sospetti, ci hanno fatto un videoclip musicale che ci ha fatto venire tantissima voglia di avere un nuovo film. Questo nuovo film finalmente è arrivato. Ovviamente, come potete intuire anche dalla mia maglietta, sto parlando di Diabolic. Però prima una premessa. Io non sono un lettore di Diabolic, ebbene sì, anche se ho la maglietta, me l'ha regalata ragazzi. Sono un poser, quindi io adoro la figura, l'iconografia di Diabolic, ma anche alla luce del fatto che uscirà questo film, che doveva uscire a Natale dell'anno scorso ma per ovvi motivi è stato rimandato, mi sono fatto un po' una cultura, ho provato a leggere dei Diabolic, però devo dire che non sono proprio il mio elemento. Penso che non sono parte di quello che a me piace, come potrebbe essere benissimo Tex, un'altra icona del fumetto italiano che però non è nelle mie corde. Ve lo dico perché io ho provato a prendere con l'uscita dell'Anastatica il numero 3, purtroppo, anzi il numero 5, non il numero 1 di Diabolic, e l'ho trovato davvero vecchio, ma sapevo già che erano così Diabolic, perché comunque ho degli amici che divorano Diabolic, quindi mi erano già capitati tra le mani. Ho preso un Diabolic di recente per vedere quanto fosse diverso il Diabolic numero 5 da un Diabolic dei giorni nostri, ragazzi, non è cambiato niente. O meglio, i disegni sono migliorati, è migliorato un pochino, diciamo, la presenza anche di Diabolic, la continuity, perché comunque ci sono personaggi già un po' più conosciuti, tipo c'è la moglie di Ginko, queste cose qui, però è sempre la stessa cosa, che invece ho apprezzato molto, che sicuramente un fan hardcore di Diabolic mi smentirà, perché non gli sarà piaciuto, io ho apprezzato tantissimo DK, che è la versione, io la chiamo la versione Ultimate di Diabolic, dove si usa un formato, un aspect ratio, se così vogliamo chiamarlo in termini cinematografici, quasi da comics americano, è tutto a colori, hanno fatto uscire, mi sembra, almeno che io abbia, hanno fatto uscire tre serie da quattro numeri. Però ecco, se non sono aggiornato, ovviamente scrivetemi tutto qua sotto, e guardate sempre alla descrizione, che magari c'è qualcosa che può interessare invece a voi. E questo mi è piaciuto tantissimo, perché è più nelle mie corde, io leggo comics americani, nemmeno manga a me piacciono, quindi lo sapete che comunque posso preferire questo tipo di fumetto a questo. Detto ciò, lanciamoci innanzitutto nella visione di questo trailer, e poi lo commenteremo anche quando uscirà il cinema, ne farà una recensione, poi se invece voi volete suggerirmi dei numeri di Diabolic, dei must have da appunto da avere per conoscere meglio questo personaggio, scrivetemeli qua sotto, che poi magari li recupererò, magari ci facciamo delle live, vediamo. Ora, bando le ciance, ci guardiamo il trailer. E' un uomo. Ma dà le capacità straordinarie. Mastra Andrea, che nasconde il suo accento romano, mi piace molto, che dà un po' di internazionalità a questo film. Mi piacerebbe incontrarlo. Miriam Leone, vabbè, che ve lo dico a fare, è Eva Kent, c'è anche la Gerini, che aveva fatto Eva Kent nel videoclip. Chi sei veramente? Emozioni. Il cuore che batte forte. Questo mi farebbe innamorare. Nessuno si prende gioco di me e rimane vivo. Non è male, il design non è male. Uh, mette le maschere di paraffina. È un teaser, eh, praticamente. È un teaser trailer in realtà, quindi si è visto poco o niente. Abbiamo visto il design di Diabolica, che pare essere... Voglio essere buono. Pare avere una calzamaglia in pelle. Sono buono, anche se è palesemente lattice. Adesso non mi viene il termine tecnico. Magari siete dei cosplayer, scrivetemelo qua sotto. Comunque si capisce che è finta pelle. Che è un po' strano, è gommoso, quindi non è assolutamente funzionale se fosse davvero un ladro andare in giro in quella tenuta. A parte che farebbe... Val di là di quello. Avrei preferito un costume un po' più stoffoso e meno di gomma, meno gommoso. Però, vabbè, ci sta. Si vedono persino le orecchie, si vede la bocca. È proprio per dare un'espressività a un personaggio di cui altrimenti vedremmo solo gli occhi. Va benissimo. Trailer italiano dal sapore un po' anni 90. Mi dà l'idea di quando ancora ci credevamo, di quando ancora tentavamo di fare dei film come gli americani. Mi viene in mente un po' un trailer anche della morte e dell'amore. O all'horror di Argento. Comunque con un po' di mistero, diciamo. Un po' di mistero inserito. Per far vedere che ci crediamo. Che forse abbiamo ricominciato a crederci che anche noi sappiamo fare film di questo tipo. Speriamo, speriamo. Anche perché questo è una prepista. È una prepista per il Bonelli Cinematic Universe. Se non lo sapete, Diabolic non è della Bonelli, è dell'Astorina. È la concorrenza che ha questo solo personaggio che è Diabolic. Però è riuscita a farla in barba alla Bonelli, che da tanto che la mena, ma doveva uscire il film di Dampir, ma è ancora in post-production. Diabolic li ha sorpassati. Quindi, se Diabolic avrà successo, è un bel apripista per i supereroi, ovviamente, per i personaggi dei fumetti anche italiani. Fuori tempo massimo, perché dopo dieci anni di Marvel Cinematic Universe siamo arrivati un po' lunghi, ma meglio così, meglio che non ci facciamo fare la concorrenza dagli americani su questo campo, se no ci devastano. Però sono genuinamente interessato. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se siete fan di Diabolic, scrivetemelo qua sotto. E noi, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, ci salutiamo, ci vediamo nel prossimo video che uscirà domani, sarà il mio ultimo video sulla DC Comics e su Flash. Arrivederci.